Eeeh what's up a tutti c'è ormai benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo avuto un episodio direi abbastanza tranquillino Perché effettivamente non è successo niente di che Però appunto me l'avete detto voi in parte diciamo che qualche reminiscenza ce l'ho pure io Il bello incomincia sicuramente adesso Per cui io ovviamente non vedo l'ora Sì di addentrarmi in questo incubo di terrore La posizione della porta è cambiata perché effettivamente prima la maniglia era a destra Se non sbaglio dopo si era messa così a sinistra Non c'è suono non c'è niente la cosa è abbastanza Come l'ho detto E là Salve perché improvvisamente è cambiato tutto Il tempo come sempre è dei migliori vero sicuramente possiamo interagire con qualcosa qua sembrerebbe di no Just out of reach Che vuol dire? Appena fuori portata infatti Ok La puta che te pari ho Allora Immagino che qua dentro non possiamo fare più niente vero? Almeno così suppongo Va bene qua non possiamo interagire con niente Poi le tende sono serrate proprio del tutto Qua qualche libro possiamo leggerlo? Non so leggere qualcosa di leggero Ah Ok La casa sta continuando a cambiare Che bella cosa come sempre Che bella cosa Una giornata sole L'aria serena Non facciamo commenti su questo? A quanto pare no Frammenti da mare Quella dovrebbe essere nostra moglie Suppongo Perché dovrei spegnere la luce? Chi è che vorrebbe mai spegnere la luce? Ok Questo quadro non so che di orribile Come le cose che abbiamo visto nel primo episodio C'è questa figura nera Che non ho capito cosa dovrebbe essere Going in circles Quindi che diceva Girando in tondo appunto E notare ragazzi Che la parola circles Eppure tutta tipo sfocata Che meraviglia Qualcuno qua ha fatto un macello Col vino Questo possiamo leggerlo Abbiamo costretti a chiamare La polizia Cordiali saluti I vostri vicini Frustrati Ce l'ho pure tenuto ad aggiungere frustrati Ok quindi a quanto pare ragazzi Allora tutti i singhizi Ci devono ovviamente far capire Qual era la situazione Prima che succedesse Un'eventuale patatak Per cui a quanto pare Questi due Si è chiusa? Ah si è chiusa proprio a chiave Questi due ragazzi Litigavano In maniera anche abbastanza pesante Possiamo interagire con qualcosa Qua dentro Sembrerebbe di no Litigavano a voce alta Anche la sera La notte Quello che è E insomma Le urla Le grida Arrivavano addirittura Fino a casa dei vicini Cioè ragazzi Non si fa Cioè da un lato Ci hanno ragione Questi sono problemi vostri Che so sti fogli Tutti scarabocchiati qua Ah ok Non mancare Hanno il piacere di invitarvi Ah no scusate sono due Hanno il piacere di invitarvi A celebrare il loro matrimonio Sabato 9 giugno Cappalari Senniuk Ora è 14 Perfetto Si sono sposati Il 9 giugno Questo l'ho già letto Posso aprire il secondo cassetto Grazie Posso interagire con questi fogli Sembrerebbe di no Il primo cassetto Ok Tempere Niente di che Il vento si fa sentire E non poco Direi D'accordo Ah Questo Questo lucchetto ragazzi Ha una combinazione Ok Sono rumori del gioco Ragazzi Non riuscivo a capire Se venivano da fuori O da dentro Il gioco Ah possiamo accendere Anche i candela Ok ragazzi Ah perché ci sono Degli effetti sonori Che sono fatti Benissimo Mi sembra che vengono Da fuori le cuffie Io non so come cavolo Ci sono riusciti Sono stati proprio Bravi A parte gli effetti sonori Qua già mi avete lasciato La combinazione Del lucchetto 8, 5, 4 Qua c'è manca un quadro E direi pure grosso Questo tizio E questo tizio Non posso leggere Manco chi sono E quest'altro signore Che mi guarda Con aria così Corrucciata Ma perché Non lo so Perché ce l'hanno tutti Con questo povero Artista Che male ho fatto Ok Perfetto Ammazza com'è caluto Come un peso morto Ah The past Holds back Look closer Guarda più da vicino Il passato Nasconde Guarda più da vicino In che senso Il passato L'anello con cui Ha fatto la proposta Quindi a quanto pare La proposta è stata Molto carina Direi Ok Non ci mancava un quadro Qua Ci mancava una porta Giustamente Siccome si può costruire Un momento all'altro Never forget Non dimenticare Non dimenticare Mai dimenticare Pronto? Ok Che le sedie Si muovano Da sole Non credo Possa essere Definito Tanto normale Direi di no E questa cosa Non mi piace Effettivamente Hai ficcato il naso Nel mio laboratorio Ancora Per l'ultima volta Non ti è permesso Entrarci Anche se la porta è aperta Te lo proibisco La prossima volta Dovrai cercarti Un nuovo lavoro What the fuck Vabbè questo ci fa capire Ragazzi Che questo tizio Era un tizio Abbastanza nervosetto Ha smesso di muoversi Ok Si 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 Diciamo di si Diciamo di si Permesso È permesso? Non c'è qualche interruttore Ovviamente Adesso non ci permettono Manco per il cavolo Di accendere La luce Vero? Per quanto tu possa essere Un artista eccentrico Cioè questa cosa Ti pare una cosa normale Cioè no Non lo so Dimmelo Dimmelo te Perché a me Tanto normale Sinceramente Non mi sembra Apriamo tutto Perché non si può mai sapere Va bene Che qua c'è qualcos'altro Con cui poter interagire Eeeh Una bella girata Che divertimento Youppiduuu Va beh Ok È cambiato tutto di nuovo Urra Ok Perché ogni volta che mi avvicino No 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 Non fate La concia di due Madre Paint Deep Lice Che significa Bugge sommersi di Pittura Oh Cos'è Cos'è Un piccolo Ok È un ritratto Della moglie Ma questo Ma questo non lo porto Con me Il ricordo Ah possiamo girarlo Aspettate I'm not that brown Non sono così rotonda Forse vuol dire Non c'ho quelle curve così formose Forse voleva dire questo Permesso? Di nuovo Perché chiedo permesso? Che effettivamente questa dovrebbe essere casa mia Per quanto sterminata Possa sembrare Questa qua dovrebbe essere casa mia Oh no Piromani Striduli Urleccheggianti Non si fermano davanti a niente Non cederò facilmente Ah perché ce l'abbiamo Coi ratti Che adesso Già ce ne abbiamo Già ce abbiamo a che fare Di sicuro Avremo a che fare In a plug Till Innocence Adesso pure qua Non mi ricordavo Oh Perché mai un topo Dovrebbe essere così Basta 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 Smettetela Smettetela Perché 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 i topi Dovrebbero essere così folli Da volersi buttare nel fuoco Se si è risaputo che No aspetta Non so se i topi Hanno paura del fuoco O dell'acqua Non mi ricordo Fatto stare Non è normale Pure se non dovessero avere paura Del fuoco Non può essere normale Che questi Si 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 buttano Così a capovitto Nel fuoco Non è normale Capite Qua non c'è più niente Con cui posso interagire Tutti questi busti Di persone Così arrabbiate Corrucciate Ma perché ci stanno In una casa Perché Abbiamo finito Di fare scherzi Fondo in questa camera Perché Ovviamente Sarà soltanto Una Camera Di Di transizione No Ovviamente Figuriamoci Ok qua Dentro alle librerie Non c'è mai La cippa di niente Fuori la finestra C'è niente Vero Mi auguro di no Basta Non mi avvicino Più di così Al diavolo Come caspita Pretendono Gli sviluppatori Che uno Vada Verso quello Che sente Vedi qua È chiusa Io ci ho provato Ci ho provato Mi dispiace Mi sento dei rumori Bruttissimi Ah sì? In che senso T'ho visto in casa mia Così tante volte Se mi stai parlando Come tuo marito Ha smesso di piacere Ah ok Eh eh Destra o sinistra E chi lo sa Il quadro La morta Riempie Andate là Allora Vado da qua Ah è chiuso Come hanno detto Eh sì D'accordo D'accordo Va bene C'è posta C'è posta C'è posta Tutto eh C'è posta Assolutamente Tutto Io Cerco di farmi Coraggio E di far finta Di niente Di 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 Non far vedere Che io mi sto Effettivamente Tipo Straccagando Nelle mutande Che mi dovrò Cambiare Pena Finirò Questo video Facciamo finta Di niente Va Che forse È meglio Che dite First step Is the hardest Il primo passo E il più Difficile Ma questo Sicuramente Negazione Negazione Ah ecco Perché avevo Un brutto ricordo Della cucina Perché adesso Sì sicuramente Adesso Succederà qualcosa E col cavolo Che mi metto ad aprire Tutti sti stipetti C'è dell'aglio Sulla porta Dovrei per caso Capire qualcosa No ma Non so stata io Non mi stavo muovendo Porca pupazza Che c'è Che c'è Basta 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 Ah mo Mo lo volete proprio Allora Lo vuoi proprio Che io la apro Sta porta Ah non la posso aprire Avete visto Ci ho provato Mi stai a bussare Mi stai a bussare Ah ma Porca vacca Pazza Porca No 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 Riaccendete la luce Vi prego La luce La luce La luce La luce Basta 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 La luce Voglio la luce Basta 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 Sta diventando Sopre più buio Perchè Volevi dieci crimini Ecco Ti accontentato Basta Mi prego Mi prego Ok Stavo tanto Spavaldare Cos'è sta roba Prima Ho cercato Un canvass Non solo Un canvass Ho dovuto trovare Un刀 Non uno Di quei Un Fecilmente It need Wheu As sharp As a razor So I Used a razor In fact And then Carefully Flayed The skin Bus Helped Keep My hand Steady oh ok amico tu ti renderai conto vero che come si dice perché quello che hai fatto non si può definire poi così tanto effettivamente normale almeno mi auguro cosa c'è qua dentro ah ok questo è l'album delle fotografie che magari si trovano in giro c'è la possibilità di accendere una maledettissima luce che non si vede in a cippa di niente respiri profondi ricorda se un professionista sono solo le prime pennellate poi avrai superato il peggio che c'eri tanto difficile certo che c'eri tanto difficile nel voler usare come tela la pelle umana che c'eri così tanto strano e assurdo ok i disegni orripilanti che troveremo in giro saranno appesi qua ok shapeless dreams sogni senza forma dovrebbe ok deformi meglio deformi di senza forma sicuramente dovrebbero essere dei finicotteri hanno non so che di di schifoso anche questi effettivamente che c'è scritto qua ok il coltello era questione del rasoio bla 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 cose normali cose normali vabbè dai oggi mi voglio far del male voglio andare ancora avanti andiamo andiamo siccome non vedo l'ora di farmi del male effettivamente con questo personaggio ragazzi dalla camminata che ha sembrerebbe effettivamente zoppicare diciamocela tutta cioè non è una camminata dritta sembra appunto avere una camminata un po' così dove dovrò andare non lo so andiamo di qua ok mi sta portando su perché di solito ora se si va giù magari uno di giorno sto entrando nell'antro dell'inferno ma magari qua le cose visto che cos'era cos'era no 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 adesso diciamocelo e parliamone io non mi ricordavo che ci fossero figure similumane in questo gioco che andavano in giro non me lo ricordavo eh sinceramente forse preferivo non ricordarmelo posso spacca qualcosa non lo so qua c'è niente qua c'è niente va bene va bene va bene questa è chiusa anche questa questa è chiusa ok possiamo aprire anche questo stipetto ok ma come fanno a pesare così tanto è tutto chiuso parlamone un attimo perché se è tutto chiuso ma vaffanculo mo scusate è un quadro ok e vai chi quale mente malata si siederebbe mai qui ad osservare tutti questi quadri inquietanti i miei migliori saluti a lei e a sua moglie dottor william green ok ragazzi a quanto pare è la moglie è rimasta bruciata in quel famoso incendio e quindi ha subito diversi interventi di innesti di pelle madre mia non immaginiamo ragazzi comunque come possa essere rimasta sfigurata questa donna e quindi lui evidentemente in preda alla follia scriveva comunque è cambiato qualcosa di nuovo se non sbaglio va bene la chiave è non era di qua ok la moglie suonava cioè a quanto pare comunque in primi tempi le cose non è che andassero così male effettivamente la chiave di dove mai sarà perché l'ascensore si è colorato in quel modo e la salve è permesso posso aprire o no ma posso aprire wow si non vedo l'ora di andare lì su questi come sempre pesano 10 quintali non so come sia possibile ok c'è tipo del fuoco che arde o cos'è questo rumore ok è chiuso non mi interessa scoprirlo andiamo lì sopra ok ci siamo accorti che qua la casa sta andando a fuoco o preferiamo lasciare le cose così come stanno non lo so perché potrebbe essere un piccolo piccolissimo direi problema questo non mi stanno andando a fuoco le scarpe mi si sono sciolte solo le suole va bene vorrei dire che entrerò qui ok permesso e la posso scherziamo scusa bimbo cattivo bambino cattivo che scherzi del pifero continuo adorare non ti userò questa parola perché mi piace veramente molto davvero molto questa parola ok mi è concesso accendere make up your mind deciditi dovrebbe voler dire fatto sta che qua dentro raga se può entra ecco qua dove va il topo io non ci dovrei voler andare di regola giusto perché qua era già aperto non c'è niente scusate ragazzi se perdo tempo a rafferire tutti i cassetti ma vorrei non perdermi nessun dettaglio a questo punto vedete allora segnali d'allarme la seguente lista è una raccolta dei più comuni sintomi di schizofrenia menchè venga in genere diagnosticato tra i 15 e 25 anni l'isturbo è noto per colpire anche pazienti in età più avanzata da notare che tali sintomi non sono esclusivi della schizofrenia non dovrebbero in alcun modo essere trattati come una prova definitiva di questa particolare malattia al fine di ottenere una diagnosi corretta si dovrebbe contattare uno specialista qualificato bla 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 inespressività sguardo a persone vuoto si movimenti facciali involontari si insonnia non l'ho notato perché giustamente magari dorme come un giro l'altro e quindi non l'ho notata gesti e posturi inusuali sempre avute ha sempre avuta non ricava piacere dell'attività quindi se ne frega caspito e niente decisamente depersonalizzazione che diavolo significa movimenti corpori stereotipati eccentrici potrebbe essere dall'incidente difficoltà a controllare la rabbia più passivo aggressivo mancanza motivazione si tendenze suicide no tendenze suicide no più che altro magari tendenze a scuogliare altre persone quello magari si c'è una trappola per topi qua il topo non l'ha cagata manco di striscio quanto sta che qua è tutto murato eh non mi resta che andate qua giusto? arrivo un po' c'è una cippa di niente come caspita fate ad avere tutti sti libri? ah di nuovo qua? quanto vorrei sapere che cosa dovreste volere dalla mia vita? non lo so qua c'è niente c'è niente vabbè me ne andrò direttamente ah quel quadro lo conosco eh di goia se non sbaglio questa mi ha fatto male veramente veramente al cuore eh ma veramente veramente perché è stato così forte il rumore ragazzi ok ok l'hai chiuso ma siccome venivano quei rumori strani sinceramente mi interessa e mi interessa non mi interessa è sparito qualcosa oh ok si va bene si 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 interessante interessante reazione it cannot be undone che diavolo dovrebbe significare perché siamo si è un diffrontato uno specchio ragazzi interessante qua si può interagire? no non perdiamoci niente vabbè entrerò nello specchio preferivo 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 non può non essere non può essere cancellato preferivo l'altra parte decisamente 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 un cane si 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 direbbe proprio essere un cane oh che bello i quadri prendono vita e prendono fuoco oddio che brutta cosa oddio che brutta cosa oddio che brutta cosa ma perché mi fate assistere a queste cose Gesù non lo so perché mi avete assistere allora ste serie io le odio ma tipo con tutta me stessa eh voglio anche questo no effettivamente no e vabbè e vabbè basta basta che è? che? che? basta è finito sto caspito di corridoio maledizione maledizione basta dovete finirla lo fanno pure apposta ragazzi a mettere le porte chiuse ok non mi sto a piacere più per niente sta cosa non mi sto a divertir non oh oh posso aprirla che cavolo oh oh merda pupazza oh merda oh eh mi scusi eh oh 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 oddio 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 ok eh che palle sti topi ok eh ok la cosa comincia ad essere abbastanza insopportabile oserei dire ok eh vabbè eh vabbè eh vabbè eh vabbè adesso 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 direi che potremmo pure quasi smetterla ci hanno fatto apposta anche ragazzi a mettere tutti questi quadri che sì 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 cioè se me volete o non me volete cioè eh non lo so ditemi voi eh eh vabbè oh porca pacca pupazza basta basta mi permettete di guardarmi un attimo un giro ok 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 Eh? Mi hanno notato tutti, vero, che il muro era diventato tipo nero. Vabbè, qua posso interagire con niente? Sembrerebbe di no. Chiunque fosse! Oh, Gesù! Oh, Gesù! Allora, c'è decisamente qualche creatura strana che va in giro. E' liberato a bellezza nascosta, con il nuovo Glamour Fusion Max. Di addio a cicatrici da acne, pori dilatati e altri fastidiosi inestetismi della pelle. L'ho cercato ovviamente tutti i rimedi possibili, ragazzi, perché questa donna evidentemente è rimasta deturpata in maniera abbastanza pesante, direi. Possiamo attivare questo grammofono o aspettiamo che si attivi da solo, come sempre? Eh, non lo so. Oh, Gesù! Ladri di protesi, insaziabili bastardi, non posso permettermene un'altra perché la fottuta gamba. What the fuck? Chi sarebbe così malato da rubare una protesi? Ma di che stiamo parlando? Ah, lo devo mettere io al disco, ok. Come dite voi? Scendiamo tutto qua? Hop, 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 hop. Ce la farò mai aggirare in maniera continua sto coso? O devo abbassare? Ah, ok. Ah, ancora con la canzone. Non è che attira quella cosa che stava andando in giro, vero? Oddio, sento dei rumori. Sento dei rumori, sento dei rumori. Fantastico, c'è qualcosa con cui posso interagire qui che mi può servire. Ah, c'è qualcosa qui, sì. Cos'è? Un violino? Un violino, eh, mica macigno. Ah, forse si può aumentare la velocità. Attenzione. Potrebbe essere interessante la cosa. La volevo aumentare la velocità, non diminuirla. Ma che caspita ci devo fare io con sto coso? Ambo seriamente. Ah, che sta succedendo alla porta? Ah, che sta succedendo a tutto qui? Oddio! Non era... Oddio, ragazzi, si sta deformando tutto. Si sta... Sta scogliendo tutto qua. Basta, 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 basta. Oddio, no, non mi direi che è quello che penso. Ah, che schifo, che schifo. Eh, non lo so. Ok, era il secondo elemento che stavamo aspettando. Ripremiamo qua. Proviamo stavolta a cambiare qua, ragazzi, per far ritornare tutto come era prima, ok? Proviamo, perlomeno, a vedere se torna tutto come era prima. Ok. Ok, sta avendo effetto, è vero. Ok. Magnifico. Interessante, è come un grammofono possa cambiare così l'aspetto della nostra casa. Che ci servono più? Gli architetti e gli arredatori di interni. Non ci serve più a niente. Oh, che meraviglia! Siamo finalmente ritornati nel nostro studio. Non riesco a vederti in questo stato, non stai bene. Per tutta la notte continuate a sudare e tremare. Adesso eccoti lì, rinchiuso nel tuo laboratorio come al solito. Tutta questa storia dell'artista maledetto deve finire. Ah, cominciava ad essere... A presentare, ragazzi, non pochi problemi quest'uomo, direi, eh. Usiamo il sangue che abbiamo trovato sulla nostra tela per dare quel... Ah, quel tocco in più! Sicuramente. Un po' le tocco in più. Ci dovrei vedere io qualcosa in questo. Non lo so cosa... Cosa ci dovrei vedere io in questa... Questa cosa deforme? Boh, fatto sta che abbiamo trovato il secondo elemento! Cosa c'è qua per terra? Odio, anche adesso ho perso solo, te lo meriti, una tomba per te, finiscilo. E vai, parlamo le tombe! Tanto qua, siccome non ci siamo già abbastanza deprimendo e cagando addosso... Vabbè, allora, ragazzi... Questo secondo episodio sicuramente si è rivelato molto più interessante del primo. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione! E un bacio a tutti, ragazzi! Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete questi anti-aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!